La scopola rimediata dal Napoli a Empoli ha rimesso in moto il meccanismo del Rafa sì e Rafa no, tanto caro ad alcuni commentatori alimentato dalle vicende delle ultime settimane, legate anche al ritiro e al silenzio stampa. Ma per rispondere sul campo l'allenatore per oggi ha imposto una doppia seduta d'allenamento, in vista della partita di domenica sera al San Paolo contro il Milan. Al mattino la squadra svolta allenamento tecnico-tattico, successivamente il gruppo si è diviso in due plotoni per lavoro specifico sia sulla fase difensiva che su quella offensiva. Di seguito chi ha giocato ad Empoli ha fatto corse scarico, mentre gli atti uomini della Rosa hanno disputato una partitina 6 contro 6. Strinic ha lavorato col gruppo, differenziata ancora per De Guzman e Zuniga. Il Napoli, che quest'anno è una delle squadre europee che ha disputato il maggior numero di partite fino ad oggi, non ha tregua. Dopo il match con i rossoneri si ritorna in campo il 7 maggio per l'Europa League, per la partita d'andata della semifinale con il Dnipro. Obiettivo di stagione? Obiettivo ambizioso che potrebbe essere determinante per i piani del Napoli e di Benitez. L'incontro della scorsa settimana, a seguito di un filotto di vittoria, aveva rimesso in discussione la permanenza del tecnico spagnolo all'ombra del Vesuvio. Ma la giostra è ancora in movimento e la squadra, abituata a stare costantemente sulle montagne russe, non sa ancora chi l'allenerà il prossimo anno.